Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un'estensione per il tema Divi chiamata Divi Menu Cart. Nei video precedenti, che trovi in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, siamo andati a conoscere uno tra i più popolari temi per WordPress, stiamo appunto parlando di Divi. Siamo andati sul suo sito per vedere quali sono le sue funzionalità, quanto costa e come ottenere supporto. Abbiamo poi provato live il page builder di Divi per andare di fatto a vedere come andremo a costruire quelle che saranno le pagine del nostro sito. Successivamente ci siamo spostati sulla vasta libreria di layout messa a disposizione da Divi, dove possiamo con pochi semplici clic importare un singolo layout ed utilizzarlo come template per una o più pagine del nostro sito. Oppure importare addirittura un pacchetto di layout e andarlo a utilizzare sul nostro sito per di fatto ottenere quello che si può definire un sito chiave in mano. Ci siamo poi alla fine spostati invece su quello che è il marketplace di Divi, dove tutti gli autori di terze parti, qui parliamo di aziende o altri sviluppatori, hanno deciso di intraprendere quello che è lo sviluppo di prodotti che riguardano, che gravitano intorno al mondo Divi. Nello specifico stiamo infatti parlando di temi child per Divi e di estensioni come quella che andremo a vedere tra poco, quindi Divi menu cart. Direttamente dalla home page del tema Divi ci richiamo su quello che è il marketplace e andiamo sulle estensioni per andare a vedere appunto Divi menu cart. Cominciamo col dire che innanzitutto troverai il link di questa estensione qua sotto in descrizione, quindi non ti preoccupare se non hai visto il percorso che abbiamo fatto. Questa estensione ha un costo di 12 dollari, come abbiamo già detto per altri temi child, così come anche per le estensioni che abbiamo visto fino ad oggi sul marketplace di Divi, non abbiamo limiti di licenza di utilizzo, ovvero noi possiamo acquistare questo prodotto e utilizzarlo su quanti siti vogliamo, in maniera totalmente illimitata. Inoltre compreso nel prezzo abbiamo anche un anno di supporto e aggiornamento. Questa estensione non ha bisogno di grosse presentazioni, in quanto è un'estensione che lavora in maniera verticale per quanto riguarda il carrello di Divi, quello che ci consente di fare fondamentalmente è di andare a rimuovere quella che è l'icona del carrello di default di Divi dal menu secondario e aggiungerla al primo menu. Inoltre abbiamo la possibilità, e queste sono un po' di future che stiamo andando a vedere, abbiamo la possibilità di mostrare il numero di elementi nel carrello, abbiamo due diverse opzioni di visualizzazione, quindi quanti elementi abbiamo all'interno del carrello, possiamo cambiare l'icona del carrello con un'immagine a nostro piacere, possiamo anche cambiare la parola item, quindi la parola elementi a nostra scelta, anche qua, e possiamo anche cambiare il colore dell'icona e del circoletto e del circolo, diciamo dell'icona e del numero a nostro piacere, anche questo. Possiamo anche disabilitare l'icona completamente, quindi possiamo anche non mostrare l'icona volendo. Qua abbiamo alcuni esempi di come funziona, in questo appunto di default l'icona del carrello che viene mostrata quando WooCommerce è abilitato, compare nel top, nel menu secondario di Divi, esattamente come possiamo vedere qui. Oppure se non è presente il menu secondario, il carrello viene mostrato nel primo menu, ma viene mostrato soltanto come una icona e basta, non mostra naturalmente quelli che sono il numero di elementi nel carrello, proprio come questo, è soltanto un'icona a se stesso. Quello che il plugin ci consente di fare è di appunto rimuovere quella che è l'icona dal menu secondario, mostrarla nel menu primario e mostrare anche il numero di prodotti presenti all'interno del carrello, proprio come vediamo in questo esempio, oppure ancora come in questo esempio qua, dove non abbiamo il test ma abbiamo il numero che viene aggiornato in real time. Qua vediamo un po' di quelle che sono le impostazioni. Questo plugin è molto molto facile da utilizzare, infatti l'interfaccia è molto semplice, nel tema option di Divi comparerà questa nuova tab, Divi Menu Cart, dove abbiamo le seguenti opzioni, quindi possiamo scegliere come mostrare appunto il menu cart, quindi a fianco a quale voce per esempio lo vogliamo mostrare, possiamo scegliere se abilitare o disabilitare il conteggio del numero degli elementi nel carrello, poi abbiamo l'etichetta per il singolo item, quindi per quando viene inserito un primo elemento e l'etichetta per quando vengono inseriti più elementi, quindi per il singolo e per il plurale. Possiamo cambiare l'icona del carrello, oppure resettare, quindi lasciare quella di default e cambiare anche il colore del counter, del background, del contatore, degli elementi presenti nel carrello e anche del testo naturalmente. Altre, diciamo, future, altre cose che possiamo fare grazie a questo plugin, possiamo anche scegliere di fatto dove e come mostrare il carrello, quindi mostrare il carrello come una voce di menu, mostrare il carrello a fianco all'hamburger menu, nel caso per esempio del mobile o disabilitare per esempio la visualizzazione del carrello. Possiamo anche scegliere come mostrare il numero degli elementi nel carrello, quindi per esempio in un circoletto, quindi all'interno di un cerchio, lo vedremo poi tra poco, o per esempio nella parte alta dell'icona del carrello, come abbiamo visto in questo esempio qua. Oppure come un testo a fianco, per esempio, all'icona del carrello, quindi come del testo semplice. Possiamo anche scegliere il nome delle parole per il singolo e il multiplo, come abbiamo visto poco fa. Nelle impostazioni possiamo caricare un'immagine a nostro piacere per il carrello, quindi possiamo anche cambiare l'icona, possiamo cambiare i colori, sia del background del circoletto, quindi vedete questo arancione, sia anche il colore del numerino del circoletto. Possiamo naturalmente, disattivando questo plugin, tutto tornerà come prima. Andiamo a vedere un attimino una demo funzionante. Abbiamo questo carrello dove vedete intanto abbiamo un'icona personalizzata, abbiamo un numerino 1, se noi aggiungiamo un prodotto al carrello, come vedete, viene aggiornato in real time, questa icona con quello che è il contatore. Qui abbiamo quella che è un'impostazione, naturalmente, di quelle che abbiamo visto. Sappiamo che abbiamo a disposizione anche altre impostazioni. Anche entrando all'interno, per esempio, di un prodotto, se aggiungiamo immediatamente al carrello, come vedete viene aggiornato in real time questo carrello. Ovviamente qui possiamo prendere, andare a cliccare e quindi raggiungere quello che è il nostro carrello. Bene, direi che ci siamo fatti un po' un'idea di quello che ci può dare questa estensione, seppur, diciamo, tra virgolette, passatemi il termine, piccola e semplice da usare, ha comunque molte impostazioni, molte future che possono permetterci di abbellire o comunque semplicemente di configurare di fatto quello che è il carrello di WooCommerce a nostro piacimento, quindi per renderlo più user friendly possibile con quello che è il nostro sito o quello di un nostro cliente e quindi direi che anche per il prezzo che è decisamente contenuto è un'estensione che può rientrare un po' in quella lista di must have, cioè quelle, diciamo, quelle estensioni che sarebbe meglio avere per un pacchetto completo nostro oppure da fornire appunto al nostro cliente. Bene, direi che per quanto riguarda DVMenuCart, per oggi è tutto, valuta appunto tu se questa estensione può fare al caso tu di un tuo cliente e quindi eventualmente appunto valutarne quello che è l'acquisto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande lasciamene scritte qua sotto nei commenti in modo tale che io possa esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo Wordpress, WooCommerce, Temi, plugin, Divi, Elementor e spulgiando all'interno del mio canale non hai trovato quello che stavi cercando, lasciamelo anche a questo scritto qua sotto così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!